Un bilancio che pareggia sulla cifra di 974 milioni di euro per il 2015, 100 milioni di euro circa in meno rispetto al 2014. È la cifra principale che spiega i contenuti della legge finanziaria per il 2015 e per il triennio 2015-2017. Una flessione significativa rispetto agli esercizi precedenti dovuta soprattutto al perdurare della crisi economica e gli effetti della partecipazione della Regione al risanamento dei conti pubblici dello Stato in attuazione del federalismo fiscale. Tenga presente che siamo passati dal 2010 ad una disponibilità di 1.630 milioni agli attuali 970, quindi 660 milioni in meno nell'arco di 5 esercizi finanziari, mantenendo inalterata la strutturazione del nostro tessuto, la dice lunga. Detto questo ci siamo mossi per presentare un bilancio che comunque cerchi di intervenire nella società proponendo degli investimenti, mantenendo lo Stato sociale e mantenendo quindi un'attenzione alta nei confronti di imprese e di famiglie. Nel triennio il pareggio di bilancio è ottenuto attingendo esclusivamente risorse disponibili, dunque senza ricorrere all'indebitamento. Una scelta che si riflette positivamente sugli equilibri di bilancio e sul contenimento della relativa spesa, ossia sugli oneri previsti per l'ammortamento dei debiti nello stesso bilancio e per i successivi bilanci. Il documento contabile conferma gli interventi anticrisi per il 2015 con alcune rimodulazioni e prevede diverse forme di tutela a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Certo è un cambio di mentalità e anche di atteggiamento, quindi bisognerà e bisogna cercare delle risorse anche all'esterno, quindi da questo punto di vista ci siamo attivati in modo molto più accurato di prima a ricercare soldi dalla comunità europea. Da questo punto di vista noi immaginiamo di spendere se i nostri programmi verranno accettati circa 120 milioni di euro nel prossimo sessegno, il che porterà a investire sul territorio poco meno di 20 milioni di euro all'anno provenienti dai fondi europei. Abbiamo avuto uno sguardo molto forte sull'economia, quindi procrastinando gli interventi anticrisi, rivitalizzando i fondi di rotazione, attuando investimenti sul territorio, avendo da una parte attenzione forte al mondo dell'imprenditoria che produce reddito, dall'altro al mondo anche delle categorie più deboli. Il bilancio approvato dall'Aggiunta regionale venerdì 7 novembre 2014 è frutto anche di una serie di incontri fra l'assessore Perron, il presidente della regione Augusto Rolanden e i rappresentanti delle forze sociali, economiche e politiche. Incontri durante i quali sono emersi i problemi e le esigenze provenienti dal territorio. Abbiamo avuto un approccio, se posso definirlo, aperto, nel senso che non a caso abbiamo procrastinato di una settimana l'approvazione del bilancio sia in Giunta sia in Consiglio per tener conto da una parte dell'osservazione dei rilievi che venivano mossi dal mondo delle associazioni e anche dalla politica. Il bilancio contiene e recepisce una serie di osservazioni, di suggerimenti per noi recepibili, che durante questi incontri erano emersi. Detto questo voglio precisare che in conclusione questo bilancio tiene conto di un sacrificio enorme che la regione Valle d'Aosta è chiamata a fare nei confronti dello Stato italiano. Tenga presente che su un bilancio di poco meno un miliardo di euro la somma che noi contribuiamo al risanamento della finanza pubblica italiana è di 220 milioni. Quindi sotto questo profilo ci presentiamo direi con le carte in regola nei confronti di uno Stato che consideriamo spesso invasivo nei confronti dell'autonomia speciale e ci chiediamo se lo Stato abbia saputo fare altrettanto rispetto a quello che abbiamo fatto noi.